Qui con Pierguidi e Salvetti la prima domanda è chi era il vice e chi era il capo allenatore in panchina? Il capo allenatore era Michele Pierguidi perché è sempre stato così, perché quando Michele faceva il capo allenatore io comunque allenavo, quindi questi non sono problemi, Pierguidi è allenatore sempre. Quando ha vinto qualcosa è sempre stato con me, quindi ha bisogno di me per vincere qualcosa e anche stasera l'abbiamo dimostrato. L'ho fatto tornare a vincere e di questo sono molto contento in un periodo difficile per l'Apo, quindi mi fa molto piacere. Qual è stata l'arma tattica che ha deciso questa partita e chi fondamentalmente l'ha chiamata? Lo schema pantaloncino è stato fondamentale. Lo schema era palla Consolini e fa canestro lei. Pierguidi si è accorto giustamente dopo pochi secondi che quale sarebbe stata la strategia vincente, l'abbiamo applicata e quindi la partita è stata portata a casa. Lei era brava e quindi doveva avere tutti i palloni giocabili perché quando c'è uno bravo bravo dobbiamo dare la palla sempre a lui. Questa è la palla canestro, il resto sono cazzati.